Ehi ragazzi, ciao a tutti da Nick e bentornati qua su Farming Simulator 17 Naturalmente ragazzi abbiamo qui con noi Alex Farmer Hola, ciao a tutti ragazzi Non sono riusciti a dire Farmer perché avevo finito il fiato Avevo finito il fiato, tutto d'un fiato ragazzi Tutto d'un fiato Sì sì, tutto d'un fiato Allora ragazzi, diciamo che abbiamo perso qualche minuto per riflettere Ma che facciamo oggi? E alla fine è da tanto, 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 tanto Ma l'ho detto, da tanto tempo Che non trattiamo o le patate o le barbabietole Quindi perché no? Quindi raga Diciamo che oggi è il terreno 15 Lo seminiamo, una delle due cose, non lo so Tu che proponi? Io direi di puntare alla patata Che la patata fa sempre bene Oh, la patata fa bene Ok, allora Hai già espostato uno dei due, perfetto Già fatto Ok, va bene Tu allora cerchi il coltivatore mi dicevi, no? Sì, ce l'ho qua, guarda È proprio qua Guarda, sei già attrezzato Zitto zitto Ha fatto tutto Allora io raga praticamente Vado a prendere quattro balle Che abbiamo notato Che abbiamo notato qua Quattro balle abbandonate Quindi Ormai visto che abbiamo Il raccogli balle Qui già pronte A disposizione Ho pensato Mo le raccolgo così Dato che nell'ultimo gameplay Abbiamo raccolto pochissime balle Quindi Quindi oggi Mi sono sognate di notte le balle Era proprio una Una rottura di balle Anche di notte Una rottura di balle Ma guarda Sono salito sul tronco Ovviamente è colpa di Poddy Perché è lui che li lascia Ok Ma senti un attimo Ma Poddy Non ha finito lì di ripulire No Poddy Raga Poddy l'ho chiamato Io devo essere sincero Io a Poddy l'ho chiamato Gli ho detto Poddy se vuoi venire A giocare No Le mod Qua di là Ma ragazzi Lo sappiamo Lo sappiamo Qual è la scusa Lui non viene perché Non vuole sistemare I danni che ha fatto È inutile Anche secondo me Anche secondo me Non viene per quello Mucchio di cavolate Ragazzi Non viene Capito Comunque Come faccio a vendere Ste quattro balle Scarica balle Avanti Sono quattro Ma me le tolgo dalle scatole E quindi ragazzi Non lo so Che devo fare Se c'ha Sto problema Che Fai danni E poi non li vuole sistemare Guardate la Guardate tutta quella Lenga Vabbè Dai Nick Io ce l'ho una soluzione Li sistemo io Così vediamo un po' Cosa Lo vai a cercare A casa E gli dici quattro parole Non capito Potrei fare anche Una cosa del genere Mamma mia E poi so io Quello cattivo Nella tua serie Mi stai contagia Mamma mia Allora Chiudi sta cosa Qua Anzi Mo lo vado a parcheggiare Sì Mo lo metto Anzi Devo anche vedere Se ce l'ho Il raccoglipalle Eh sì Il raccoglipalle Semina patate Volevo dire Figurati te Come stiamo messi Allora Semina Semina Boh Forse neanche ce l'ho Perché Perché che ne so Devo vedere No Eh controlla Fra le tue migliaia Di mod Già Cioè di mod Di mezzi Di mezzi Di mezzi Questo Ah eccolo qua Patataro Macchinario Non ce l'ho Ma ce n'è solo uno Non ce n'è uno più grande Sì No c'è solo quello Scusa Ce n'è uno da 58.000 Credo Ho sbaglio Allora Sì 58.000 Grimm Sì 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 E oltre Non ce n'è Quello è il più grande Quello è il più grande C'è anche uno più piccolo No c'è uno più piccolino Non serve a niente Eh ci credo Non serve a niente 58.000 euro Raga E le mettiamo in conto Ad Alex Ovviamente Vai vai Metti mettimi Intanto sto facendo I sull'appalate Adesso Mamma mia Va bene Allora Tanto lo devo andare A prendere Su diamine di cose Perché Non si può fare Ripristine In fattoria Quindi Vado a Recuperare Questo Semina patate Raga Avanti Eccolo qua Ah ma qua Avete allargato il campo Furbetti L'ho fatto io Ecco Anzi E perché tu non l'hai notato Ma ho allargato anche il 12 Poi vado a controllare Sì sì A voglia E come L'ho allungato fino alla strada Proprio Non ho lasciato manco un po' di spazio Ho allungato fino alla strada E se tu guardi dove ci stanno i due silos De patate babbietole Anche quello lo diciamo arato Dove ci stanno i pannelli solari va Sì 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 ho visto All'inizio inizio inizio sfruttavo quel pezzetto di terreno pure Perché non avevo i soldi per comprare un terreno E allora l'ho arato Ed era comodo Perché comunque Non è poi così piccolo piccolo va Usciva fuori un bel po' di Di terreno insomma Non era fatto male Ah beh è giusto dai L'hai sfruttato L'hai sfruttato abbastanza Sì mo alla fine Ci ho messo i pannelli solari Perché tanto Ormai di terreni Ne ho anche troppi Quindi Ne hai ne hai Cominciamo a caricare la patata raga E la patata E la patata Che poi forse Che ci sta pure nel silo No guarda Cosa fai Ci vuole il peso Ci vuole Ci puoi mettere un peso dietro Che poi voglio dire Tutti i trattori buoni Che abbiamo qua E ho preso proprio quello più piccolo Eh volevo fare Volevo fare un po' I numeri No però Questo trattore ce l'ho da una vita E' proprio bello Lo usavo già dall'inizio Perché Allora aspetta Molto economico E prova a vedere Tipo Questo No Questo non ce l'ha Il caricatore No visto che c'hai Il Lamborghini Il Lamborghini Il Lamborghini lo puoi fare Questo lo lasciamo qua Eh sì dai Il residuato bellico Lascialo stare Che paione Che male E' carino No quello va bene Perché quando devi fare qualche lavoro E' tipo portare l'ettame Sì Anzi aspetta Sai che faccio Ora che ci penso Guarda via le uova Vediamo un po' Che poi ho messo sto coso qua Per le uova Vediamo un po' Che sta combinando Mi C'è il cesto pieno di uova Vai Mi facciamo la frittata stasera Ma come le raccolgo Ah boh Le ho prese Non so come Ma le ho prese C'è anche qualche uovo qua Ok Qualche uovo qua E là Bene Non so quante uovo ho prese in tutto Ragà Però Le ho prese Intanto Alex Come potete notare Sta caricando Questa Nostra Seminatrice Ha già fatto in pieno No No Ok Aspetta Dov'è che ho messo il coso Per il fertilizzante Liquido Solido Che sia Qui da qualche parte Penso che l'ho messo Forse non l'ho messo E già è vero Che qua non ci lavoro Da tanto di quel tempo Penso proprio Che compro Allora Oggetti posizionabili Dove caspita Eccolo qua Liquido Ha compri direttamente Il Eh si Il posizionabili Si Ma si che una volta Le avevo già messi qua E mo lo rimetto qua Ok liquido Poi ci metto anche Quello solido Perché no Qui sta Solido E ovviamente Quello per i semi Magari lo metto Da quest'altra parte A posto Allora un'altra ben E abbiamo finito Avanti Ok Abbranniamo Quanto siamo 67% Ma si dovrebbero anche bastare Tutto questo Si si a voglia Così puoi partire subito Nick Spedito proprio Come la posta prioritaria Vediamo Ok Vai 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 Poi se te ne occorrono altre Vieni Ti ricaico Novanta Peccendo C'è basta A posto Thank you Allora raga Carichiamo Il liquido Qua Fertilizzante Liquido Ok A posto Allora Quindi mo Apriamo La Seminatrice A posto E nel frattempo Nick Mi porta avanti A coltivarti Un campo Qua vicino Ma se vuoi Poi Se hai voglia Potevi anche raccogliere Un po' di legna Visto che poti Mi sa che non lo farà mai Va bene Che a meno da quella Ci guadagniamo già qualche lira Va bene Va bene Va bene Tanto ti basta che pigli il camion Lì ci sta il rimorchio Quello autocaricante Ah Ok Carichi due legna Due di legna E buona Ed è fatto Almeno così Ragazzi Ci portiamo avanti Che vogliamo fare Che vogliamo fare E se Poddy Gli piace distruggere Non riparare Ci possiamo fare niente No Così Lui E lui è così Ragazzi E così Che vogliamo fare Gli piace distruggere Non creare Il nostro Poddy Poddy il distruttore Lo chiamiamo No dai Eee Non lo so Guarda Beh Veramente Una volta Dicevamo Che Che era Una volta noi dicevamo La Poderachite Lui c'ha la Poderachite La Poderachite Quanto tempo che non dicevo Sta parola Devo dire Però si È il modo perfetto Per indicare Poddy No Lui c'ha la Poderachite La Poderachite È una malattia Un po' bruttina Speriamo che non è contagiosa Speriamo di no Comunque dai Buona sta seminatrice Raga Perché Copre Abbastanza Che dici Dovrei usare La porca Qua Visto che Ce l'abbiamo Eh si dai Così almeno Vai un pochino Più dritto Anche se comunque Non è un campo Grandissimo Riesce anche a occhio Si si lo so No più che altro Perché se no La visuale interna Non la potrei mai usare Eh si Si raga Mi segno una porca Qua Ha proprio porca Un nome più Meno maleducato Porca patata Cioè c'è di tutto C'è sta puntata Quindi raga Eventualmente Se crescono Ste patate Nel prossimo gameplay Ci facciamo Una bella raccolta Di patate E se non ho il macchino Cioè uno forse No forse non ce l'ho Forse che non ce l'ho E raccogli i patate Ma in caso O ne compro due O ne affitto due Tanto è lo stesso Si ma infatti Comunque ce la faremo Ce la faremo Gira 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 O se no magari cerchiamo Qualche mod carina Per raccogliere le patate Chissà Volendo anche Si si può Magari portiamo Magari portiamo Qualche novità Ai ragazzi Che ti seguono Magari Si assolutamente Si può fare anche questo Raga Anzi a proposito Se ne avete una Che so Scrivete nei commenti Suggerite Infatti suggerite ragazzi Sto usando sempre il class Ormai ci ho fatto proprio Eh ormai è diventato Il tuo Il tuo mezzo Si però Il tuo mezzo preferito Però il colore Poddy Forse che addirittura L'avevo comprato Per poddy Non lo so Perché è verde Io di solito Lo compro giallo Diciamo che il giallo Attira un po' le mosche Però Così so almeno Non sapevo di questa cosa Credo O era il giallo O il nero Non mi ricordo Può essere Però sapevo che c'era Un colore che attira le mosche Non lo sapevo Questa cosa qua O forse O forse Mi hanno preso Per i fondelli Tutto è possibile Tutto è possibile Non è che Tutto quello che dice Nick È reale Vero Che ne so Magari Magari mi pigliano Per i fondelli Non è che Non può succedere Oh sì Intanto se ne sentono Tante di cose In giro Veramente Mi viene in mente Molte volte A me mi viene in mente Una cosa che non c'entra molto Però Per dire Mi è venuta in mente Questa cosa Quando stavo in Germania A me Un tedesco Mi fa Eh ma tu il tedesco Non lo sai parlare bene Io ho detto Ma perché tu l'italiano Non lo sai parlare Eh Scusa E allora State zitto Io ho detto Sono sempre più avanti di te Cioè cambiano un po' Cioè oggi magari Ragazzi col cellulare in mano Quando ci andavo io A scuola e cellulare Era un lusso Per chi ce l'aveva Esatto E io ce l'ho avuto Anche io Dico la verità Ma sai come È venuto A me non l'avevano regalato La comunione Me l'avevano regalato A me invece È venuto mio zio Dalla Germania Io l'ho fregato aveva un cellulare tipo da 400 500 euro cioè era un nokia di quelli c'aveva tipo snake come gioco parliamo del 2001 2002 io l'ho fregato praticamente ero quasi l'unico in classe con il cellulare più o meno perché poi tutti gli altri ce l'avevano o ce l'avevano di schifo o non ce l'avevano proprio ma si era una cosa nuova io mi ricordo il primo cellulare che ho avuto è stato il simens a 35 blu mi avevo regato proprio appunto per la comunione ma me lo ricordo ancora spettacolo invece mio papà ci aveva tipo il quelli ancora gsm se quelli che il motorola quello che mettevi la scheda ma ma il mattone il mattone ne ho visti mattone però andavano andavano sempre cioè prendevano anche sottoterra mio padre c'ha un telefono che un cellulare l'ho comprato in germania l'ho pagato 5 euro nuovo che funziona benissimo che roba è che marca è un marchio conosciuto a ditta verità non me lo ricordo mo che marchio è però comunque c'è un schermo a colori ma ovviamente la tastiera vecchia non ha fotocamera non ha nulla non ha nulla sms telefonate qualche piccolo giochino o per 5 euro però la cosa bella è la batteria dura due settimane quindi è quello adesso non ci dura neanche una giornata intera invece quello lì dura un'eternità quella batteria visto facendo palestra adesso in questo momento mi sto trasportando con i tronchi adesso si io qua quasi finito ok se vuoi non lo so ma hai già fatto un carico di legna e no sto ancora caricando che non riesco a venir su no 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 non importa perché alla fine anche se poi le raccogliamo con calma un'altra volta almeno giusto per aver fatto qualcosina anche con la legna e poi volevo giusto da un po di acqua e un po di concime solido alle serre basta poi qua è seminato e si vedrà più avanti tu mi dici quello che devo fare è ovviamente via l'acqua lì dalle vacche via l'acqua che forse che già c'è stata tutta l'attrezzatura per l'acqua e credo che già la c'è comunque l'acqua è fatta chiudo allora 3 satio per l'acqua a posto bello seminato terreno 15 e con la patata siamo a posto a posto dobbiamo aspettare che matura che ancora è troppo giovane eh sì allora acqua 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 e che ho lo parcheggio qua bello ale a meraviglia perché perché gioia non parcheggerà mai nessuno quindi a caccia vado a caccia e che è diventato un gioco di caccia sì perché questo ormai è diventato un gioco di caccia sul tuo salvatore ok io ho già trovato quello che mi serve mani tu mani tu mani you allora botte dell'acqua guarda che già qui comunque c'è basta un frattore teoricamente non lo so ma dov'è scusa che non l'ho visto ma io ci sono passato 20 volte guarda la è verde come a podi la in fondo è quadrato a ama la universal usi tu ok perfetto no pensavo avessi proprio la botticella no 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 basta che pigli quindi in trattore ci metti giusto un po d'acqua perché sennò lo sai quella lì si impunta sì sì va bene e tanto penso che il trattore qua in zona ci sarà bello mani tu e mani you è proprio bello allora un bel carico qua accendo anche la lampe jantt che fa il lampe jantt che fa figo ti fa fa agricoltore serio ok un altro po di cacca please vai è proprio qualità premium qualità premium no se devo pensare qualità premi se pensa a premium mi viene da pensare solo alla televisione anche a me perché l'unica l'unico posto in cui sento parla di premium quindi a posto si sono dovuto riandare in azienda prende il trattore niche perché in zona non non ne ho visto a di la verità ce ne fosse che ce ne sta un abbandonato proprio al negozio ecco però prima che switchavo su tutti i mezzi ho fatto ho detto vado in farm che ne uno lì vuoi vedere che arrivo prima io col trattore del negozio a possibile perché ancora non ci sono andato a prenderlo perché sto parcheggiando a mani tu no allora sono arrivato dai sono arrivato ma sei arrivato ah sì ma sì ti vedo infatti a posto cibo energetico pochissimo ma come che diamine è possibile eh sì mi sono dimenticato di dire te lo stavo guardando prima e non ne hanno ok ci vuole un camioncino ino 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 e moto caspita lo pia ino ino e vado a pia sempre quel trattore allora trattore mi servi t'ho comprato vent'anni fa e dove caspita sei non è lui dove caspita l'ho messo allora l'avrò spostato vabbè ma ce n'è un altro c'è la smart buono pure per trasportare un po di cose buono quindi quali è già dato l'etame perfetto sì 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 ci vuole solo un po d'acqua e se va avanti adesso gliela diamo subito sto portando qua a smart altronde c'è pure stop a led tipo tipo però perché poi in realtà si accendono in modo completamente diverso diverso dal led cioè allora taglio un po di strada che fa figo guardate che razza di trattore che c'ho sia tutte e quattro le ruote starzanti a parte a quello ce l'ho pure montate doppi le ruote ha pure doppia dietro se e anche davanti perché fa figo e tamarro ok ma ragazzi mettiamo un po di cibo energetico qua dentro e così almeno risolviamo mezzo problemino è che questo per scaricare il cibo energetico ci mette mezz'ora urca un tre assi con quel trattorino hai visto ebbè ma fa il suo lavoro a di tirare dire ma non ce n'è a giusto sono schiaccio r non parte a posto e di voglio poi quando deve tirare quando è carico è quello ma ce la fa lui non è che lo devi sottovalutare no ma va non lo sottovaluto no 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 non si fanno ste cose solo che se solo che se penso un tre assi con quel giocato ma qui non siamo nella realtà che poi a di la verità che a di la verità raga nella realtà se uno bastava sempre su youtube cioè se cerchi se cerchi video strani ne trovi tanti tipo tipo mezzi stra caricati che poi se ribaltano come niente quindi non è che nella realtà non ci sono a voglia se ci stanno e come cose strane ce ne stanno e come tu lo ha porti l'acqua alle mie mucche 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 ma non penso che ne abbiano bisogno vediamo che ne so siccome si è andato la sotto pensavo che c'era no vabbè lo rimetto no rimetto a posto la no vabbè potremmo anche dargliela un po d'acqua dai eh si no siccome ti ho pensato visto che stai la ho detto beh sarà per quello ma sto coso ci mette tre ore per scaricare eh diamo l'acquetta che me manca qua la paglia pensate ora poi qui raga più avanti ce ne occupiamo paglia e e erba sì poi ce ne occupiamo sì sì ce ne occuperemo con calma un'altra volta o buono così basta e poi anche alle pecore dovremmo dare un po di erba ma si mi sa che lo fanno nel prossimo gameplay o comunque vediamo in qualche modo comunque sto po po rino qua fa un po fatica sai però ce la fa 12 chilometri orari non è che voglio dire guardalo grande nick quasi 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 pure con la macchina lo tiro sto sto per scaricare a a lei a posto così gli animali ragà stanno contenti per un po di tempo non è tanto ma almeno e almeno almeno non mi dice più che gli manca il cibo a posto ragà io parcheggio sto coso e penso che per ora possiamo concludere che il tempo ahimè ragà vola via inesorabile ci stiamo a far vecchi come niente il tempo vola quando volando sto volando a suo tempo prima di fa 18 anni ragà il tempo non passava mai che volevo pigliare la patente dalla non dirmi niente non dirmi niente ora che non lo so com'è possibile ma già sono passati 12 anni da quando ho preso la patente non ci ho fatto neanche caso e poi immagino vola il tempo vola dopo dopo che finita la scuola e pigliate la patente il tempo se ne va che è una cosa incredibile passano i giorni come niente è vero ok ragà quindi concludiamo noi qua speriamo tanto ragà che il gameplay vi sia piaciuto e mi raccomando come sempre commentate iscrivetevi lasciate un bel mi piace e vi ricordo che in descrizione naturalmente trovate il canale di alexfarmer passateci dateci un'occhiata perché naturalmente come ho sempre detto come dice il nome tratta farming principalmente solamente farming è specializzato lui va bene allora ragazzi quindi vi salutiamo stateci bene ci becchiamo presto ciao la prossima ciao belli